Hanno conquistato anche Islam Kala, avamposto di frontiera con l'Iran, strategico per gli scambi commerciali con un gran numero di paesi asiatici, guerriglieri Taliban. Dopo due mesi di offensiva a tutto campo contro le forze di Kabul, la loro avanzata pare ormai quasi conclusa, come ha sottolineato la delegazione talebana in visita a Mosca. E' chiaro a voi e a tutto il mondo che in questo momento il nostro Emirato Islamico è il controllo dell'85% del territorio dell'Afghanistan. Noi non siamo all'altezza di prendere il potere, vogliamo solo che tutti gli afghani svolgano con noi il loro ruolo nel governo, secondo le loro capacità e conoscenze. E mentre Joe Biden ha confermato il ritiro degli Stati Uniti entro il 31 agosto, il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto di non avere intenzione di interferire con quanto accade in Afghanistan, a meno che i talebani, che ora controllano i due terzi del confine col Tajikistan, non dovessero sconfinare nel paese alleato di Mosca, che vi ha impiantato una base militare strategica. Rispetto a quanto accade in Afghanistan non abbiamo intenzione di prendere alcuna misura, a parte ripetere i nostri persistenti appelli affinché il processo politico che tutti gli afghani sostengono sia avviato al più presto possibile. Tutto ciò che accade in Afghanistan ci disturba, naturalmente, solo nel momento in cui crea problemi sul territorio dei nostri alleati. La tensione è in effetti altissima lungo quel tratto di confine che i talebani si sono impegnati però a non oltrepassare. Proprio al nord del paese, Kabul ha inviato ulteriori rinforzi. Giovedì, mentre i taliban conquistavano la città capoluogo di Kala e Now, a Teheran sono iniziati con la mediazione iraniana ulteriori colloqui tra gli insorti e il governo afghano.